benissimo programma concluso e adesso le facciamo fare la centrifuga definitiva la centrifuga 800 giri e via l'oblò si sblocca di nuovo mettiamo questo qui in modo che posso fare un video fermo e potete godervi tutta la centrifuga ovviamente se riesco a tenere fermo il telefono bloccarlo forse no cambiamo giriamo solo non avendo cavalletti per telefoni mi devo arrangiare in qualche modo quindi abbiate pazienza che riusciamo prima o poi riuscirò a prima o poi riuscirò a tenere fermo il telefono e ok ce l'abbiamo fatta ok 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 Grazie. Grazie. Ok, centrifuga avviata. Grazie. 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 Raggiungimento definitivo degli 800 giri. E direi perfettamente stabile. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.